Viareggio, cittadella del Carnevale. Siamo nell'hangar di Massimo Breschi alle prime battute della sua opera per il Carnevale di Viareggio 2015. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ecco quello che non vorrei vedere, costruzione capace di ruotare di 180 gradi mostrando due giganteschi quadri animali, uno dei quali appartiene al grande decano Decadristi, Arnaldo Galli, da cui Breschi si è originariamente ispirato. Mai fidarsi delle apparenze, dice il costruttore, perché anche la più innocente figura può nascondere qualcosa di oscuro e malvagio, in grado di colpire quando meno dello specchio. Il tema centrale del carro, infatti, è l'abuso sui minori. Vediamone alcune fasi della costruzione. Si comincia ad assemblare l'oscuro personaggio. ecco le prime prove di movimento. ecco. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con le cornici dei due quari ultimate si prepara ad unire la struttura e la carrezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.